Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video, bentornati sul canale, siamo qui per analizzare la moviola, poche parole, per fare la moviola di Napoli-Juventus, una partita su cui non avrei dovuto fare la moviola, in quanto sinceramente non credo che la Juve sia stata favorita, ma siccome gli amici napoletani fanno spesso del vittimismo la loro arma, anzi i napolisti più che napoletani fanno del vittimismo la loro arma segreta per provare a dare un senso alla loro stagione, analizziamo gli episodi uno per volta, gli episodi più grossi e come sempre mi aiuterò con delle immagini che potrete vedere appunto qua sotto ovviamente, cominciamo con il primo episodio, il rosso a Meret e lo vedete qua sotto, Meret negli spogliatoi secondo Maksimovic, questa è una cosa che Maksimovic dice alla domenica sportiva, dice chiaramente che Meret, come posso dire, in confidenza abbia detto di aver toccato comunque Ronaldo, la cosa che non poteva essere chiaro occasione da gol è una cavolata enorme perché in quanto Ronaldo si troverebbe col pallone con la porta vuota, quindi se non è chiara occasione da rete quella non è mai chiara occasione da rete. Il punto è se Meret tocca o non tocca Ronaldo, allora in quanto Meret dice di averlo toccato, in quanto dagli slide che avete visto qua sotto si vede il tocco di Meret seppur leggero su Ronaldo, va ammesso che il regolamento come vedete qua sotto adesso, dice chiaramente che è punibile non solo il fallo e il tocco ma anche il tentativo di sgambetto, cosa che questo Meret lo fa senz'altro perché il pallone è già passato, lui cerca di sgambettare Ronaldo, quindi è rosso netto, diretto, giusto, assolutamente e su questo non ci piove e infatti la Gazzetta, il Corriere, il Corriere della Sera eccetera danno tutti rigore netto, quindi assolutamente, passiamo al prossimo episodio espulsione di Pjanic, io non ho messo neanche lo slide perché è talmente netta che non vale assolutamente la pena neanche stare a parlare, Pjanic meritava l'espulsione perché è stato fesso a fare un fallo stupido, quindi decisione giusta dell'arbitro il rigore per il Napoli il rigore per il Napoli a mio avviso è un mezzo regalo, è molto simile all'episodio che ha punito l'Inter domenica scorsa dove D'Ambrosio prende prima il petto e poi il braccio perché poi dopo da altre immagini si vede che il pallone sfiora al braccio, non è mai rigore e non è mai rigore neanche questo perché comunque Alessandro salta, non guarda mai il pallone il giocatore del Napoli rimette in mezzo il pallone, la palla prima tocca il petto e poi tocca il braccio non condanno l'arbitro per questa segnazione, semplicemente per il fatto che dobbiamo mettere delle regole precise per quanto riguarda i falli di mano, dall'anno prossimo sembra che qualunque tocco di mano verrà sanzionato col rigore, mi auguro che sia così perché almeno si mette chiarezza poi si può discutere, ma questo non è mai calcio di rigore perché prima tocca il petto e poi tocca la mano ripeto, posso capire Rocchi nel momento che dà così, però oggettivamente questo è un errore ultimo e non per ultimo il fallo di Koulibaly che doveva assolutamente essere espulso quello di Koulibaly su Dybala, al di là dell'atteggiamento dopo di che non ributtano il pallone non ridanno il pallone alla Juve, gridano ladri nonostante che ci sia stato episodio abbastanza netto in questo caso qua, l'episodio di Koulibaly, la cosa più grave è che quello è il rosso diretto, ma soprattutto la cosa più grave è che non venga neanche ammonito, quella è la cosa più grave perché al di là del rosso diretto Koulibaly era già ammonito e quello doveva assolutamente essere espulso, cioè non vorrei che adesso su Koulibaly si stia facendo dei ragionamenti inversi, cioè adesso c'è questa sorta di protezione che il clima antirazzismo sta portando nei suoi confronti perché da quel momento lì a Koulibaly stanno concedendo tutto ed è assolutamente sbagliato. Volevo aggiungere solo una piccola chiosa sul quindi assolutamente questo che vedete sotto è assolutamente espulsione, magari volete dare ammonizione ma per quanto mi riguarda non cambia nulla perché era già ammonito quindi comunque il rosso doveva tirarlo fuori. Piccola chiosa, l'espulsione di Piani c'è netta ma non è netto il primo cartellino giallo perché Kalleon si è buttato e nonostante Piani c'è non l'abbia neanche sfiorato. Ecco, quindi anche lì fallo ci sta per tentativo di sgambetto ma non ci sta l'ammunizione. Volevo aggiungere semplicemente che Kalleon dovrebbe saltare tutte le partite in quanto non subisce mai fallo e prende tanti di quei falli, dovrebbe essere perennemente espulso per simulazione, dovrebbe prendere 1-2 gialli a partita tranquillo per simulazioni. E' un giocatore che fa solo quello, cioè si tuffa si tuffa da praticamente un carpiato e basta, quindi va bene così però diciamo che al Napoli, al Napoli che fanno la morale, che si sono incavolati ieri per l'arbitro, c'è poco da arrabbiarsi perché oggettivamente l'espulsione è netta, le espulsioni da tutte due parti sono nette. Manca un'espulsione a Koulibaly, il rigore dato che poi sbagli in segne non c'è, quindi ragazzi di che cosa parliamo? Punto, stop, chiuso e così basta, va bene. E va bene così, insomma, lamentatevi però oggettivamente oggi l'arbitro ha sbagliato, ma ha sbagliato più verso la Juve che verso il Napoli. Se avete preso 5 gol tra andate e ritorno e avete fatto 0 punti con la Juve, con la Juve conciata, come è conciata in questo momento, cioè che quasi appena appena cammina, ragazzi forse avete un problema di fondo che va bene oltre gli episodi arbitrali. E forse invece di piangere è forse il caso di analizzarli. Ma questo poi sta a voi, sta a voi, a me non me ne frega assolutamente nulla. A me basta vincere e abbiamo vinto e basta difendere la squadra quando vengono dette puttanate come quella che la Juve ha rubato ieri sera. Allora è giusto che intervenga e faccia vedere gli episodi. Da regolamento, come ho postato prima, si evince questo. Quindi poi per il resto voi fate quello che volete. Ragazzi, vi saluto per aver visto questo video. Se vi è piaciuto condividetelo, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao!